Scena 1, pieno sequenza, inizio undicesima Oh, grande! Oh, mi ha fatto paura Lo stoppiamo, lo calmo, me lo aspettavo Oh, grande! Ah, no, scusate, aspettate, no, ho sbagliato È un'ottima copertura organica Bisogna spingere sopra Poi, se c'è da migliorare qualche cosina, si migliora No, no, ora non li do più, dai Noi abbiamo ascoltato con molta attenzione i suoi pezzi, signore Bleh, bla Bleh, bla Bleh, bla Bleh, bla Basta, basta, basta No, ora non lo guardo, ora non lo guardo Ma perché col grand'angolo gli faccio una faccia anche vivile Vai, quando ci siamo, silenzio, azione Bleh, bla Bleh? Bleh, bla Ah, ble, bla Devo dire che ci sono sembrati molto interessanti Che cazzo dite? Movimento e E, az... 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 No, l'ho guardato, via Azione Noi abbiamo ascoltato con molta attenzione i suoi pezzi, signore Bleh, bla Bleh? Bleh, bla Bleh, bla Bleh, bla Devo dire che ci sono sembrati molto interessanti i originali Complimenti No, no Poi, se scelta a migliorare qualche cosina si migliora Bleh, bla Poi, se scelta a migliorare qualche cosina si migliora No, no Stamolare, delle persone da vita originale I ragazzi Sama che foto Che vio nel backstage Ragazzi Un'ottima Secondo me potrebbe avere un'ottima Vai vai ce l'abbiamo Le foto del backstage Ragazzi Delle pillole Delle video Scusate Spinge bene Come è in mente Tra questi temi Io non ho capito Se c'è da un mila Da qualche cosina Si migliora C'è da un Dove C'è da un